Noi pensiamo che si debba iniziare a costruire l'alternativa alla destra che governa il Paese e anche la Regione, producendo una serie di danni. Lo ha detto il capogruppo del Partito Democratico alla Camera dei Deputati, Chiara Braga, partecipando alla mezzia terme a un incontro del gruppo PD alla Regione. Il tutto a partire dalle elezioni regionali in Sardegna, dove PD e 5 Stelle corrono insieme. La sfida della Sardegna di domenica ci vede particolarmente impegnati a sostegno di Alessandra Tod per scrivere una pagina nuova in Sardegna. Tra le priorità del Partito Democratico il contrasto al decreto Calderoli sull'autonomia differenziata. Ma oggi siamo qui anche per sostenere il lavoro di opposizione dei nostri consiglieri regionali a una destra che sta facendo una serie di scelte che penalizzano il nostro territorio, sia a livello nazionale con l'autonomia differenziata, sia a livello territoriale. C'è bisogno di costruire l'alternativa e noi vogliamo farlo con il massimo della determinazione mettendo al centro gli interessi e i bisogni delle persone che vivono in questo territorio. Il percorso dell'autonomia differenziata è visto con particolare preoccupazione dalla società calabrese? Sì, la Calabria è una di quelle regioni che rischia di essere più colpita da questo disegno pericoloso voluto dalla destra che spacca il Paese, che aumenta le disuguaglianze e che rischia di condannare dei territori a una situazione di fragilità, soprattutto le persone più in difficoltà. Questo disegno non prevede nessuna risorsa, nessuna modalità per garantire quelli che sono i livelli essenziali delle prestazioni e non prevede risorse per assicurare a tutti i cittadini l'accesso a servizi fondamentali a partire dalla sanità pubblica, il diritto all'istruzione e il trasporto pubblico. La dirigente si è soffermata sulla costruzione del cosiddetto campo largo che a livello locale vedrà il PD insieme al Movimento 5 Stelle, alle amministrative di Vibo Valencia. Noi siamo impegnati con grande determinazione a costruire un'alternativa alla destra e lo vogliamo fare insieme alle altre forze con cui condividiamo il lavoro di opposizione a livello nazionale ma anche sui territori, mettendo al centro i temi che davvero ci uniscono e che toccano da vicino la vita dei cittadini. Lo abbiamo fatto sul salario minimo, sulla sanità, su grandi battaglie, ad esempio quelle che contrastano un progetto sbagliato come quello del ponte sullo stretto di Messina. Partiamo da questi progetti, rafforziamo l'unità delle forze di opposizione per costruire un'alternativa che sia percepibile come convincente ai cittadini e lo vogliamo fare appunto a partire anche da realtà come Vibo Valencia.